Ha scelto la strada del silenzio stampa il Cerignola a distanza di oltre 24 ore dalla sconfitta di Potenza. Evidentemente ha lasciato più di una traccia negativa nell'entourage degli Ofantini la battuta d'arresto del Viviani contro l'attuale capolista del Girone H. Non solo per il risultato, 3-0 secco maturato nel corso della ripresa, ma probabilmente anche per la prestazione e soprattutto per la mancata reazione all'Eurogold realizzato da Francia in anvia di seconda frazione. I gialloblu, infatti, non sono riusciti ad evitare di porgere l'altra guancia. Ha colto l'occasione al volo il Potenza, che ha raddoppiato con Siclari e triplicato le marcature con un'altra rete di pregevole fattura dello scatenato Franza. I Lucani restano a ponteggio pieno dopo sette giornate e si portano a più 5 dal Cerignola, che rimedia la prima sconfitta da quando c'è Francesco Farina in panchina, ossia da 12 mesi. Domenica molto positiva, invece, per le due squadre murgiane di Serie D. Il Gravina vince 2-1 al San Sabino di Canosa contro lo Sporting Fullboard, conserva l'imbattibilità stagionale e balza in terza posizione in classifica. La sconfitta costa, invece, la panchina a Pinolo Polito, sollevato dall'incarico. Buona, la prima sulla panchina dell'Altamura per Ciro Ginestra. I Biancorossi soffrono nel primo tempo contro la Versa al D'Angelo, ma poi dilagano con le reti di Montemurro in apertura ed Ostoni in chiusura di ripresa, interballate dalla doppietta di Santaniello. Secondo pareggio consecutivo, il primo nella versione casalinga per il Manfredonia, che fa 1-1 al Miramare contro il Pomigliano. Pari, senza reti per il Nardò, con la Frattese, mentre il Taranto risorge battendo il Picerno sul neto del Fanuzzi di Brindisi e senza pubblico sugli spalti. E crisi nera per l'alto tavoliere Sansevero, che allunga la propria serie negativa al Simonetta Lamberti contro la Cavese.